Ciao a tutti ragazzi e ragazze d'Archini e d'Archine Oggi sono con questo piccolo video perché è successo una cosa anomala su YouTube Cosa è successo? Praticamente ieri io giravo, no, giravo come faccio sempre, più o meno guardare alcune live E in alcuni canali di YouTube, quindi in alcune live, è successa una cosa pazzesca Io proprio adesso ho visto alcuni video dove dicono cose assurde, fanno vedere pure PewDiePie perde un bordello di iscritti, tutti dicono che sia un glitch Ma, 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 qui secondo me c'è lo zampino degli Anonymous Sarebbero una, tra virgolette, si può chiamare Crew Che su YouTube non è tanto conosciuta ma si vuole far conoscere Quindi mi sono state dette da persone che comunque io mi fido E che non hanno mai nella loro vita sparato cazzate Mi è stato detto che alcuni, perché tu puoi presupporre Sì, è un glitch, ok, è un glitch, è un bug Tu dici, ok, però questo bug, ok Tu puoi dire, beh, eh sì, un bug Ma c'è sempre il fatto che se fosse un bug Tutti i canali YouTube avrebbero questo problema Il problema non è tanto che tutti i canali YouTube Perché nessuno ha questo problema Eccetto alcune persone in particolare C'è un piccolo canale che sta crescendo Ieri era 13.200 iscritti E' arrivato a 12.700 iscritti Ora ho ricontrollato E' stato 13.400 iscritti Non si sa Alcuni dicono che è un bug Alcuni dicono che è un glitch Alcuni invece presuppongono Si può dire presuppongono? Sì, vediamo nei commenti Io con l'italiano ragazzi Ci sono molto litigato No, comunque sto scherzando Addirittura c'è un ragazzo Ieri live Aveva 30.000 spettatori Più o meno Così almeno si dito dire E tutto ad un tratto E' arrivato a meno 1.500 iscritti Cioè Porca miseria Meno 1.500 iscritti E' una cosa assurda Comunque ragazzuoli Speriamo questa cosa si risolvi Al meglio E tutti dicono che già si è risolta Ma io non credo Perché mi è stato riferito Che c'è una persona in particolare Che deve essere hackerata Però io non posso dire niente ragazzi Io come ho sempre fatto Vi faccio i cavoli miei Vi ho solamente informato di questa cosa In Italia c'è una persona Che deve essere hackerata Assolutissimamente Da questa altra persona Comunque C'è un casino assurdo Un casino assurdo E vogliono hackerare Una persona in particolare Il problema è Che a me è stata detta questa cosa Che non si sa Se è una cosa vera O non è vera Però Se volete Sapere Chi è questa persona Che verrà hackerata Arriviamo A 1.500 like E io vi dirò In un altro video Chi sarà La persona Che sarà hackerata Quindi Ragazzi Io spero Che questo video Sia piaciuto Più o meno Spero che avete capito Il tutto E niente ragazzi Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ad una prossima like Ragazzi Vi ringrazio a tutti Per la visione Un saluto Un abbraccio Dal vostro D'acqua Cosa è tutto Mi raccomando Condividete Questo video Per farlo vedere a tutti Lasciate il like 1.500 like Ve l'ho già detto Ah Stavo dicendo Che praticamente Oggi pomeriggio Alle 15.00 Quindi alle 3 in punto 3 o 3 5 3.10 Quello che sia Però Nell'arco delle 3 Io farò una live Su Clash Royale E anche su questo problema qui Quindi ragazzuoli Mi raccomando Pollici in su Commentate Quando mi vedete Se non si è iscritti Mi raccomando Mi raccomando Di attivare la campanellina Che trovate nella descrizione Nella descrizione La campanellina Se Nel tasto iscriviti Io vi ringrazio E vi mando Un bacione A tutti Grazie Per il vostro supporto E alla prossima Anzi A oggi pomeriggio Ciao Ciao a tutti